Nella quinta giornata di Serie A, povera di gol, l'Inter del neo allenatore Claudio Ranieri incassa i primi tre punti in campionato battendo per tre reti a uno i padroni di casa del Bologna. Nerazzurri in vantaggio al 39esimo minuto con Pazzini, poi al 66esimo dopo il fallo di Samuel Suramirez Diamanti segna su rigore l'1-1, ma all'81esimo Morleo a terra Pazzini in aria e si becca il rosso, dal dischetto Milito va in gol. Sei minuti più tardi sugli sviluppi di un calcio di punizione, anche Lucio lascia il segno deviando di testa il cross di Montari. Anche il Milan ottiene la prima vittoria in campionato battendo il Cesena per 1-0. Decide al quinto minuto questo tiro cross di Clarence Sedorf, grandissimo gol del centrocampista rosso-nero. Finisce 2-1 la gara tra Chievo-Verona e Genoa. Ospiti in vantaggio al 48esimo con Palacio, ma il rosso-blu nell'ultima mezz'ora si ritrovano in inferiorità numerica per l'espulsione di Dainelli. Falli in aria su Pellissier e calcio di rigore che Freire spinge, ma al 74esimo l'attaccante giallo-blu si rifà e al 93esimo Oscardelli firma il gol della vittoria. Stesso risultato per l'Atalanta che vince contro il Novara grazie alle reti di Schelotto e Cigarini, rispettivamente al 34esimo e al 59esimo minuto. Porcari riapre la gara all'89esimo, ma è troppo tardi. Sfida tra due ex giocatori e d'ora allenatori come Vincenzo Montella e Antonio Conte. Finisce 1-1 tra Catania e Juventus. Va in gol Bergessio al 21esimo, ma nel minuto 49 Krasic pareggia i conti, a Nucar non impeccabile. Cade il Lecce a Siena, padroni di casa in vantaggio dopo sei minuti dal fischio d'inizio con destro. Poi al 53esimo e al 70esimo Calaiò firma la doppietta, l'ultimo un gol di straordinaria finezza. Dopo una respinta di Giulio Sergio l'attaccante bianconero di prima la mette da fuori aria dove l'estremo difensore del Lecce non riesce ad arrivare. Da segnalare anche l'espulsione al 62esimo di Esposito, che è già munito, fa fallo su destro e ne paga le conseguenze. Osvaldo dà un respiro di sollievo a Luisa Enrique e alla platea giallorossa. È suo l'unico gol siglato a Parma nel minuto 50. Parma-Roma 0-1. Le altre gare, Napoli-Fiorentina, Lazio-Palermo e Cagliari-Udinese, finiscono in parità e a reti inviolate. In classifica comandano Juventus-Udinese con 8 punti, a quota 7 c'è il Genoa, il Napoli, la Fiorentina, il Palermo, il Cagliari e il Chievo-Verona. 5 punti invece per Siena, Lazio, Roma, Milan e Catania. L'Atalanta, l'unica squadra veramente in forma fino ad ora, è a quota 4 e senza quella penalizzazione di 6 punti sarebbe prima 10. Assieme a destra c'è il Novara e l'Inter. 3 punti per Lecce e Parma, un solo punto per il Bologna e nessuno per il Cesena. Questa settimana c'è la Champions League, con le due milanesi che vogliono i tre punti anche nella massima competizione europea per club. Il Napoli vuole fare altrettanto. Stesse intenzioni anche per Udinese e Lazio, impegnati in Europa League, rispettivamente contro il Celtic e lo Sporting Lisbona. Il campionato ritorna sabato 1 ottobre con l'anticipo alle 18 tra Roma e Atalanta, poi alle 20.45 si gioca Inter-Napoli. L'anticipo di domenica è tra Novara e Catania, mentre le gare pomeridiane sono Cesena e Chievo-Verona, Fiorentina-Lazio, Lecce-Cagliari, Palermo-Siena, Parma-Genoa e Udinese-Bologna. La sfida di lusso tra Juventus e Milan chiuderà la sesta giornata alle 20.45.